Musica Avete bisogno di crediti per FIFA 18? Footloot.com, passate nel link in descrizione Bene a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro gioco Siamo tornati signori di nuovo su FIFA 18 Sono tornando ragazzi con le sfide del 190 Food Draft Challenge Allora, visto con l'uscita dei Todi ragazzoni Si può fare appunto questa sfida Quindi direi subitissimo di iniziare Mi raccomando lasciate subito un bel like Vediamo un po' il modulo andare a prendere Ma penso che questo qui ragazzi con i tre centrocampisti Alla sinistra e alla destra secondo me è uno dei migliori Anche perché gli altri fanno abbastanza cagare Quindi prendo il 433 e vediamo subitissimo Se riusciamo a fare il 190 Ovviamente ragazzi sperando di trovare Subito qualche Todi Allora io direi di prendermi Invece di prendere un zil e cose varie Puntiamo ovviamente alla nostra classica squadra della Liga Vediamo un po' se ci dà Messi, Ronaldo e cose varie Ok, ce lo dà 94 Vabbè, me niente Certo, mi devi dare Ronaldo a 99 Ok, grazie, perfetto Su richiesta, va benissimo Perché così dobbiamo alzare l'overall Allora, qui se ci dà anche un Kain Secondo me Todi Grazie mille, non ci ha proprio dato manco a morire proprio Mi prendo un 76 addirittura Vediamo se ci dà Kanté Modric sarebbe pure Ecco, Modric perché non me l'hai dato Todi Le fossero ammazzate proprio Quindi ce lo prendiamo 89 Vediamo un po' se ci Oh, Kanté ragazzi Attenzione, aspettate un attimo Che qui la situazione si fa abbastanza interessante Certo, se mi dava Modric 96 Tanta roba Qua un Roberto Carlos oppure un Marcello Era buono Ma ovviamente non ci lo dà Ci prendiamo Rose Che fa comunque intesa con Kanté Vediamo se ci dà un'icona Oppure qualcosa di buono No, ci dà un Roberto Che mi fa intesa Eh, sì ragazzi Devevo prendere Roberto Che mi fa 81 Mi fa la Dregli di triplo intesa Qui tante volte Medaviramos Dove si sbaglia ovviamente Prendiamo il 74 Poi lo andiamo a cambiare Vediamo qui Se ci dà qualcosa di buono Niente Colibali Ma Colibali Non ci faccio niente Benazia Idem Mi prendo l'80 Sì, Dregli Che mi fa intesa con Modric Vediamo se ci dà De Gea Oppure qualcosa di buono Niente Momentaneamente metto Farman Allora Siamo 88 80 Raga Purtroppo Di buono Ci ha dato solamente Per quanto riguarda Ronaldo E ci ha dato per quanto riguarda Messi E Kanté Ma per il resto I giocatori non sono molto buoni Dobbiamo sperare qui In qualcosa di veramente Veramente buono Ragazzi Sennò siamo messi Veramente male Allora Qui andiamo a più 4 Quindi Diciamo potrebbe essere interessante Qui andiamo più 3 90 87 Non è male Però Dobbiamo aumentare l'intesa pure Quindi Se mi prendo questo Mi porta 86 È tosto ragazzi È veramente tosta Mi deve dare qualcosa di molto molto interessante 90 87 90 ci siamo ancora Però non ci stai dando nulla FIFA Siamo a 90 87 Ma non ci stai dando nulla Ok Allora Coutinho Potrebbe essere interessante Neanche troppo Sinceramente Neanche troppo Dobbiamo puntare a qualcosa Tipo difensori Qualcosa di buono Raga Insigne C'è mania Di Però ci cala 89 Vabbè Prendiamo un attimino Vediamo come si comporta Se ci dà qualche centrocampista Qualche difensore Che può servire Raga Così è un vero casino Mi sa che non ce l'abbiamo Proprio fatta a zero Ci sta dando tutti i giocatori Che non ci servono È iniziato abbastanza bene Ma ci sta riempendo Di giocatori Che non ci possono servire Minimamente Niente 88 93 Raga Vediamo un po' Le skipiamo l'ultimo Ci dà un Navas Un Courtois Però abbiamo già l'89 Adesso prendo Ter Stegen Tanto non ci serve Raga Quindi niente 87 83 Ragazzi siamo 88 96 E qua non ce la facciamo No 88 96 Ho provato a mettere anche A mischiare un po' Le carte in regola Qui ma Non vanno Quindi prendiamo Il nostro allenatore Ok Siamo No 97 addirittura 88 97 Primo tentativo È andato Abbastanza male Abbiamo iniziato bene Ma poi Siamo andati a finire Veramente molto male Andiamo Facciamoci un'altra volta Raga Proviamo un altro tentativo Allora Ragazzi Proviamo Stiamo con il secondo tentativo Vediamo se può andar bene Oppure peggio di prima Allora Un modulo decente Questo qui raga Probabilmente Perché il resto Non mi piace moltissimo Allora Prendiamo questo qua Con l'ATS ATT ATD Vediamo subito Se ci dà Messi e Ronaldo In versioni speciali Ci dà Ronaldo 94 Va bene lo stesso Speriamo ci dà Messi 98 In questo caso No Però ci prendiamo Mappé Vediamo un po' Se ci dà invece Un altro toti tipo Kane Ok Uuuuh C'è Henry Raga Henry 93 Però c'è Messi 94 Allora Io mi prendo Henry Sinceramente Che mi fa anche intesa Raga Molto buono Vedi che spettacolo Vediamo un po' Il centrocampo Invece ci dà qualcosa Di molto interessante Andarmi a chiamare Un altro elefante Allora Raghi 1887 E' buono Dammi Modric Ragazzi Questo è il giro buono Questo potrebbe essere il giro buono Vediamo se ci dà anche un Kanté No Però ci dà pareglio Molto buono ragazzi Molto molto buono Allora Siamo a 71 55 Vediamo se ci dà Marcello Marcello Ci dà Alonso Molto buono Alonso Ci prendiamo il difensore Vediamo un po' Ramos Ti prego Dammi Ramos No Ci dà Savic Che alla fine ci fa intesa Comunque Vediamo un altro difensore Dai Godin Onucci Sono bello per roll Ragazzi Però mi devo prendere Gimenez Perché devo fare intesa Io Sennò non ci riusciamo Terzino a destra Ci prendiamo CDB No Walker No A sto punto prendo Walker E' provo a fare tipo Eh no Non provo a fare niente Now Portiere Terz second De Gea Pure De Gea va benissimo No Non ce lo dà De Gea ci dà un Ederson Che non ci serve Non mi serve nulla Ragazzi Io mi prendo farm man Che comunque è 84 Siamo a 88 80 Siamo partiti da dio Regà E stiamo un po' calando Stiamo calando Quindi mi devo prendere Liga Santander Allora Potrei prendermi Corchia Che mi fa intesa Quindi ce lo prendiamo Ragazzi Lo mettiamo qua 88 92 E non è male Poi ci prendiamo Un Dall'Iutra e basta Prendiamoci un Insigne Almeno Iniziamo a sedere un po' Di overall Vediamo se ci dà qualcosa No Ci dà un portiere E una S Se mi prendo il portiere Qui andiamo 88 100 Regà E non è male Però mi servono I giocatori alti Di overall Quindi mi serve Veramente adesso Tutto il massimo Che FIFA Mi può offrire Quindi per favore FIFA Non te svena troppo Mi raccomando Guarda però che spettacolo Regà Ok C'è Neymar 94 Eccezionale Dai 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 Ragazzi Ci dà Ci dà Cudigno Addirittura C'è l'ho Da quello Del Manca De Barcellona C'è l'ho Da quello Stato ancora A Liverpool Dai Vediamo un po' Regà Ok 89 Non è male Silvo 89 Siamo a 188 Per il momento Ancora 188 Ragazzi Johnson Non ci interessa Mettiamo così 188 Dai Dai Ti prego Ti prego Dammi qualche Marcello 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 Perché sei un Marcello 189 Ragazzi 189 Ti prego FIFA Ti prego FIFA Che ce la possiamo fare Al secondo tentativo Leviamo questo E mettiamo L'84 38 Vediamo il portiere Ti prego Totti No Ci dà l'ho Per il 85 Alla 188 Non ci credo Che c'è 188 Dai non ci credo Dai non è possibile Questa è una super squadrona Regà Guardate un 188 Mi rimane Non ci credo Cioè mi è uscita fuori Una squadra Regà Paurosa Veramente paurosa 188 Non ci credo Dai FIFA Non mi fa scartare Sta squadra Che è bellissima Niente ragazzi Purtroppo Siamo arrivati a 189 E dobbiamo scartare Una squadra Veramente Molto molto bella Quindi Peccato ragazzi Per uno Non ce l'abbiamo fatta Proviamo con il Terzo Tentativo ragazzi Per un attimo Vi giuro che ci ho creduto Ci ho creduto perché ho detto Se putacaso mi dava Un Messi Ragazzi Ma anche normale Secondo me Facevamo 190 tranquillamente Perché comunque Mi ha dato Modric Mi ha dato Marcello Quindi tanta roba Ecco mi serviva prima Sto Messi Mi serviva prima ragazzi Vediamo se ci da qua Tante volte anche Ronaldo Mamma mia ragazzi Doppietta incredibile Fermi tutti Se qua adesso mi da Kane O Suarez Niente Stavo scherzando Non volevo niente Io volevo anche un'icona Ma va bene così Dammi un Gareth Bale Dammi un Non lo so Ok C'è Di Bala Alla Di Bala è 89 Bale invece fa intesa con tutto Prendiamoci Bale ragazzi Che fa più intesa Secondo me Molto 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 meglio Prenderci lui Ester E si Oh Cantè Eccezionale Me lo acciappo subito Non ci penso due volte Qui altro centrocampista Mamma mia ragà No vabbè Vaffanculo Sto giro Mi fa 191 Ragà me lo sento Sto giro Devo spaccare il mondo Sto giro Vi spacca tutti Ci prendiamo Vitolo O Gaitan Anche Gomez Però è buono Mi prendo Vitolo Mi prendo Vitolo ragazzi Che tanto mi fa comunque intesa Difensore Ramos Signori Sergetto Ramos Non ci dà Sergetto Ramos Tutto Premier League Vivendo l'82 Dai con Sergetto Ramos Forza Ci dà la porte Però anche questo Ci potrebbe fare intesa Però la porta Comunque molto meglio Secondo me Oddio company Però 86 Allora prendiamoci company Prendiamoci company Ma le vada il difensore Facciamo sempre il tempo A cambiarlo Uuuuh Bonucci Non c'è Non c'è Ma a rischio Guarda se tante volte Non facciamo intesa Guarda Di pure Neuer Madonna mia Che roba C'è Qua il 93 addirittura 93 71 Subasic C'è che fa intesa Leno no Però Neuer Madonna mia Non posso prendere Neuer Devo prendere Cech Non posso prendere Neuer È rischioso Veramente rischioso Perché adesso Non abbiamo intesa Quindi Vediamo un attimino Allora Dobbiamo giocarcela bene Signori Allora Anche è vero Che ci sta dando La cacca Ci sta dando Veramente lo schifo Allora C'è Parelli Casantander Perché questo Ragazzi Anche è vero Che se metto qui Sanchez Al posto di Vitolo Mi fa intesa Perché ci sono Company E Cantè Allora Facciamo così Prendiamo Sanchez Mi fa più 3 Ok ottimo Mi fa più 3 Non è facile Non è facile Signori Non è facile Allora Tutto Premier League O Pro League Che palle Che palle Mi serve l'attitito Le va con l'argentone Mi serve tanta robetta Dai FIFA Te prego Su Dammi qualcosa di buono Portiere della Questo C'è posto di vice Fa più uno Guarda se non ce la facciamo Per l'intesa Porca miseria Che voglio crede Guarda C'è lo schifo Lo schifo proprio Eh Regà è tosta È tosta Sicuramente non ce la facciamo A farla Sta squadra Allora Premier League Posso prendere Underwild Che lo metto lì Se no ci sta Spilliqueta Che è spagnolo Potrebbe fare Intesa Questa antica Sorla Vediamo un po' Il portiere Ragazzi Ci da Giusto De Gea Potrebbe essere Miracolo Ma Non ci da niente Anche se mi prendo Questo qua 88 Andiamo addirittura Allora 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 Facciamo una cosa Mettiamo Bonucci Che qua Ovviamente Non ci interessa Quindi Bonucci Lo spostiamo Qua davanti Prendo un attimo Allora Siamo 89 92 Allora Premier League Ci da questo Andiamo a 94 89 96 Regà Guarda che peccato Questa però La squadra Era bellissima Porca miseria Perché ci ha detto male Con l'ATT Che è una cagata Regà Giusto quello lì Ci ha andato Secondo me 189 Cioè così facciamo 90 Però Non facciamo intesa No regà Non ci voglio credere No regà 90 98 Ragazzi niente Io le ho provate Veramente tutte E purtroppo Più di 90 98 Non posso fare Perché se vado a rimettere L'ATT Purtroppo Mi cala Adesso 188 Ma se metto Un altro qui Mi va A 189 Regà Non riesco Proprio a fare Sto benedetto 190 Purtroppo Per un cavolo Di giocatore Che è 90 98 Regà Non riesco Viramente A fare Nulla Quindi Ragazzi Ci ho provato Al terzo tentativo Abbiamo quasi sfiorato Di farlo Ma se voi Tante volte Avete qualche idea Per fare questo 190 Fatemi sapere Ragazzi Io ci ho provato Ma Secondo me Non viene proprio Anche se vado A spostare Alcuni giocatori Eventualmente Non lo so Perché se qui Metto la L'evocante Quindi ragà Niente Io spero che Questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel Polizio in su Commentare Condividete Passate la pagina Facebook E Instagram Trovate il link Nella descrizione Ci vediamo Con un prossimo Appuntamento Ragazzi Purtroppo Veramente Mirode un po' Il chiccherone Sinceramente Vi dico la verità Mirode un pochettino Non aver fatto Sto 180 Sto 190 Veramente per poco Ma veramente poco Con questo 90 Non ho montato il tutto Al prossimo Di evento Cliccate sulla campagna Di l'idea Tra il link In descrizione Ciao signori Ciao signori